Continuano i ritrovamenti delle esche avvelenate nei diversi quartieri della città. Le associazioni animaliste lanciano un crido d'allarme, in particolare all'amministrazione, perché è segno di grande inciviltà uccidere così animali indifesi. L'amministrazione smentisce il ritrovamento di nuove esche e animali deceduti per avvelenamento, confermando che non ci sono nuove denunce. In settimana si aspettano dal Laboratorio Analisi di Palermo gli esiti degli analiti fatte sui gatti morti ritrovati, per capire quale sia la sostanza che ne ha determinato il decesso. Un grandissimo problema che non investe solo gli animali, ma investe anche la sicurezza pubblica. Ma a quanto sembra il comune non è a conoscenza di queste esche avvelenate, probabilmente non ha visto la televisione o probabilmente non ha letto le PEC che un'altra associazione gli ha inviato dettagliatamente dicendo che c'erano queste esche avvelenate. Noi come OIPA e invito anche le altre associazioni a fare altrettanto, faremo un esposto alla Procura della Repubblica, un esposto alla Prefettura, un esposto all'ASP e un esposto al Sindaco per questi fatti gravi di avvelenamenti e di ritrovamenti di esche avvelenate sul territorio. Metteremo in campo anche tutta la nostra forza mediatica dell'OIPA che è a livello nazionale per poter attenzionare Gela su questo problema e far capire che la situazione è veramente grave. In un incontro ottenuto la scorsa settimana in comune, l'assessore Licata ha comunicato alle associazioni la volontà dell'amministrazione di svuotare gradualmente il canile, agevolando le adozioni attraverso convenzioni. Noi abbiamo detto sì, va bene, noi diamo la collaborazione per cercare di svuotare il canile perché loro vogliono ridurre notevolmente i costi, che posso anche capire, ma nello stesso tempo se non si fanno le sterilizzazioni a tappeto e massive non concludiamo niente, facciamo uscire 10 cani e ne pastoriscono 100, facciamo uscire 10 gatti e ne pastoriscono 2000 sul territorio, non si fa niente.